Tamponi rapidi nei dravini delle maggiori città siciliane. Dopo l'esperienza negli arcipelaghi minori alla Fira del Mediterraneo a Palermo, prosegue la campagna attiva di monitoraggio del coronavirus sulla popolazione della Sicilia su precisi target, così come programmato all'assessorato regionale alla salute su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico. L'iniziativa promossa dalla Regione con le ASPE in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali è ancora rivolta in questa fase al mondo della scuola. Così oggi e domani in oltre 20 centri con popolazione superiore a 30 mila abitanti verranno allestiti circa 30 drive-in con percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che in caso di positività verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. In linea con quanto organizzata a Palermo grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico regionale con i presidi e maggiori istituti scolastici nel fine settimana personale docente non docente studenti e le loro famiglie potranno avere accesso ai drive-in allestiti nei siti individuati dalle amministrazioni locali con le ASPE. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altre città e nuovi drive-in saranno presentate altre modalità di accesso alla campagna per raggiungere un campione più vasto. E l'ASPE di Palermo ha l'attività in corso alla Fiera del Mediterraneo a fianco uno screening di popolazione a Morreale. Oggi e domani nei locali dell'ex mob edificio Mulè in via Circonvallazione sarà possibile effettuare il tampone rapido. In caso di positività così come previsto alle linee guida la persona sarà subito sottoposta al persona dell'ASPE al tampone molecolare. L'adesione alla campagna è su base volontaria. della campagna è su base volontaria.